Io oggi vorrei parlarti di una cosa che mi ha molto colpita. Come ben sai, da quando ho avuto l'incidente stradale ho iniziato ad approfondire la tematica della relazione tra i professionisti sanitari e i pazienti. E più mi approcciavo, più studiavo questo argomento, più ho riscontrato un aspetto che, diciamo, mi è subito balzato all'occhio ed è quello di cui vorrei parlarti oggi. Si è passati dal venerare i medici, dal venerarti, se sei un medico in ascolto, all'aggredirti verbalmente o fisicamente. E i vari fatti di cronaca questo ce lo confermano. Come deformazione personale e professionale tendo a cercare di capire le motivazioni di un fenomeno e quindi, invece che soffermarmi sul giudicare la mancanza di rispetto e la violenza dei pazienti e degli eventuali familiari nei confronti delle persone che li curano, e sono assolutamente degli aspetti legittimi da evidenziare, però ho deciso di concentrarmi sul perché tutto ciò avviene. Cioè perché per anni, alla vista del camice bianco e dell'ostetoscopio al collo, orde e orde di pazienti pazientavano così passivamente, con tanta devozione e vera e propria venerazione da non proferire alcuna parola, ed ora invece arrivano già muniti di informazioni riguardanti la propria diagnosi, la prognosi, vogliono avere l'ultima parola e se capita ti tirano pure un bel ceffone. Ecco, a me personalmente paiono entrambe due situazioni totalmente disequilibrate e vorrei portarti in questa mia riflessione. Intanto ti voglio far conoscere un breve excursus storico su quella che è la relazione tra il medico e il paziente. Ora sicuramente avrai sentito parlare di Ippocrate di Cosso, ovvero il padre fondatore della medicina moderna. Ecco, lui affermava che il medico deve essere in grado di acquisire le informazioni necessarie per produrre una diagnosi e nello stesso tempo deve essere dotato dell'arte di persuadere il malato ad ascoltare le prescrizioni per debellare la malattia. Quindi diciamo che il medico era percepito come un padre autorevole che, conoscitore della scienza, esigeva obbedienza dalla persona malata che veniva considerata come un bambino, un bambino inerme che doveva semplicemente acconsentire alle decisioni prese dal medico. Da qui nasce quindi il concetto di paternalismo, che vede appunto il rapporto tra il medico e il paziente come completamente sbilanciato. Sappiamo che da una parte c'era il prete custode dell'anima e dall'altra c'era il medico custode del corpo. Pensa che addirittura il medico poteva permettersi di omettere informazioni cliniche se lo riteneva necessario. Quindi diciamo che gli si affidava totalmente la nostra macchina, il nostro corpo, la nostra situazione di salute. Sarà con Galeno che inizierà la prima embrionale teorizzazione di quella che viene definita alleanza terapeutica. infatti il medico Galeno afferma che il medico è ministro dell'arte, quindi si opponga al male il malato insieme con il medico. Quindi ovviamente anche con Galeno diciamo che si mantiene fortemente l'idea di un sostanziale squilibrio tra il medico e il paziente, però almeno una piccola evoluzione era avvenuta. Infatti il medico veniva chiamato ad allearsi con il curante per gestire la malattia e quindi aiutarlo con tutte le informazioni in suo possesso. Il periodo successivo a Galeno è il medioevo e quando parliamo di medioevo dobbiamo ovviamente soffermarci anche sulla presenza di nuovi elementi essenzialmente di tipo religioso. Infatti in questo breve percorso storico che ti sto proponendo non posso prescindere dalla rivoluzione filosofica e morale introdotta dal cristianesimo, grazie alla quale il malatto non è visto esclusivamente come un oggetto sul quale il medico esercita la propria arte ma come un prossimo verso cui mettersi a disposizione. E tu mi dirai bene, un bel approccio. Sì, vero. Però in questo caso la sofferenza del prossimo deve essere vissuta dal medico come una chiamata ad agire per contrastare le sofferenze del malato anche se, e questo è l'aspetto importante da sottolineare, anche se il malato è contrario ad un intervento. Quindi in epoca medievale possiamo dire che c'è una maggiore enfasi di quello che è appunto il paternalismo. Sarà invece in epoca rinascimentale, in particolar modo con Paracelso, un altro medico, che inizia ad essere messa in dubbio l'onniscienza del medico, enfatizzata dalla medicina appunto ipocratica. Infatti secondo Paracelso nulla è dato da conoscere del proprio malato se non quanto egli stesso dice mediante le parole e i segni della malattia. Quindi tale diciamo dubbio rappresenta il terreno su cui l'epoca moderna assegnerà al paziente ruoli sempre più attivi. Quindi vediamo come nel corso della storia sicuramente c'è stato un salto importante, un passaggio importante. Siamo passati dal paternalismo, quindi dalla centralità del medico, che appunto poteva totalmente omettere delle informazioni cliniche, quindi non comunicava assolutamente con il paziente, che semplicemente aveva un ruolo totalmente passivo, ha una centralità del paziente. Gli anglosassoni lo definiscono patient-centered care, quindi la terapia centrata sul paziente, la cura centrata sul paziente. Ora, sicuramente il passaggio è stato fondamentale, è stato importante, però l'aspetto che bisogna sottolineare è che a fianco a questa evoluzione relazionale tra il medico e il paziente, dobbiamo ricordare che il XIX secolo ha visto anche l'avvento di quello che viene definito il positivismo, cioè questa corrente filosofica che ha trasformato la medicina nello studio dei fenomeni organici e delle loro leggi. Quindi il malato, grazie a questa spinta appunto del positivismo, è percepito come un mero insieme di processi fisiologici alterati a causa appunto della presenza della malattia. Quindi il rapporto tra il malato e il medico viene privato del suo contenuto emozionale. Quindi sì, il paziente è al centro, ma c'è appunto una precisazione da fare. Vari eventi storici, sociali e culturali hanno portato effettivamente all'avvento della centralità del paziente. Pensiamo semplicemente alle numerose denunce di pazienti che si ritenevano vittime involontarie dell'anestesia chirurgica come effetto collaterale del paternalismo esasperato. Oppure tutte le battaglie civili degli anni sessanta e gli anni settanta che chiedevano autonomia, libertà, individualità, congiunte anche ad una maggior coscienza all'interno della classe medica dei cosiddetti fallimenti della medicina. Tutto ciò ha portato il paziente al centro, tanto da far nascere come strumento cardine il cosiddetto consenso informato di cui sicuramente avrei sentito parlare, ovvero il paziente ha il diritto di conoscere tutte le informazioni cliniche e di decidere se dare il consenso o meno ad una proposta terapeutica. Però ciò che è ad essere veramente centrale non è la persona con la malattia ma sono i vari infarti, i vari traumi cranici, i vari cancri al colon, l'ictus e non Giovanni, Carlotta, Paolo, Ivano o tu che mi stai ascoltando. E identificare la persona esclusivamente con la sua malattia vuol dire averci lo stesso rapporto che un tecnico ha con un elettrodomestico rotto. Quindi in realtà vi è un, come posso dire, non vi è un accrescimento né per il paziente né per il medico. Ora questo podcast è dedicato alla comunicazione tra i sanitari e i pazienti e quindi presenta diciamo come ottica e strumento di analisi il come vengono messe in comune le informazioni. E quindi ritengo che essendo i pazienti percepiti come meri elettrodomestici danneggiati, di conseguenza anche il modo di relazionarsi a loro è rapido, tecnico e dal poco spessore umano. E questo non lo sto dicendo solamente io che ho vissuto una determinata esperienza in un luogo di cura, ma questo lo dicono anche i numeri, le indagini statistiche che sono state fatte riguardanti la soddisfazione dei pazienti per quanto riguarda l'aspetto relazionale e comunicativo con i medici. Molto spesso l'elemento che esce è che le persone malatte si sentono trattate non come delle persone. E con questo, e veramente ci tengo tantissimo a sottolinearti questo punto, non sto assolutamente giustificando le aggressioni. Io non sto dicendo beh il medico non sa comunicare, non si relaziona bene e quindi lo picchio. No, ovviamente. Sto cercando di capire quanto il comunicare in un ambiente dalla massima complessità e vulnerabilità come può essere un ospedale sia una leva di cui tener conto e sia un elemento da sviluppare sempre più. La comunicazione tra medici e pazienti è sempre scaturita da visioni simmetricamente opposte. Abbiamo visto nel breve percorso storico che ti ho presentato prima la centralità del medico che lo portava a rinchiudersi nella torre d'avorio delle sue competenze e portava il paziente a venerarlo. Ora la centralità del paziente che porta il medico a mettere sotto la lente di ingrandimento esclusivamente la malattia e quindi non la persona nella sua totalità. E io credo che qui si trovi l'inghippo di tutta la questione. Tirando le somme esiste una dimensione che va oltre il saper fare tecnico e scientifico perché riguarda l'essere medico che incontra l'essere paziente e che ci ricorda che la vera cura, quella con la C maiuscola, è quella che mira alla totalità della persona, altrimenti non è cura. In fin dei conti la stessa definizione di salute data dall'organizzazione mondiale della sanità ce lo ricorda. La salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di affezioni o malattie. E quindi capisci bene che se la salute viene considerata in tal modo anche la condizione di malattia non è semplicemente una condizione fisica e organica. Ma ci sono varie parti che la compongono e di cui tener conto. La parte sociale, la parte emotiva, la parte psicologica, perché no? La parte spirituale. Il fatto è che la medicina nel corso degli anni e fortunatamente è divenuta sempre più tecnica. Certo, non sarò mai una di quelle che è contro la tecnica. Insomma, le viti nel mio pavimento oculare sinistro ne sono assolutamente grate. Io sono assolutamente grata del progresso scientifico. Però dobbiamo anche soffermarci sul fatto che la medicina è divenuta sempre più tecnica e di conseguenza vede il paziente sempre più in maniera tecnica. Ma io ti posso assicurare che se ti vuoi approcciare all'altro con la cura, con la cura reale, non puoi percepire l'altro semplicemente in maniera tecnica. E qui voglio citarti un filosofo che stimo molto, Umberto Galimberti, che in Psiche e Technè scrive la tecnica non fornisce risposte alle domande di senso. E non perché la tecnica non sia ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra nel suo programma trovare risposte a simili domande. La tecnica non tende ad uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità. La tecnica semplicemente funziona. Allora tu mi dirai, ottimo, se la tecnica funziona, che problema c'è? Vero, ma io ti dico che siamo esseri umani, che tu sei un essere umano, che io sono un essere umano. E non siamo fatti semplicemente di parti tecniche. Quando si presenta una malattia, un disagio, non c'è solo la parte fisica e biologica, ci sono tante altre parti che stanno chiedendo di essere ascoltate fino in fondo. Il salto quantico, il passaggio estremo da fare e da comprendere è che dietro quel paziente vi è una persona. E ovviamente capire anche che dietro quel medico vi è una persona. E proprio perché non si percepisce l'altro come un essere umano, ma come un tecnico o come un difetto tecnico, a seconda di chi guarda, mi chiedo, non è che stiamo ripetendo un paradigma relazionale, ovvero quello in cui mettiamo in atto o l'arroganza o la supplica. E rimaniamo quindi in quell'approccio relazionale, rimaniamo incastrati in quell'approccio relazionale del o sono superiore a te, mi devi ascoltare, solo io posso parlare, oppure sono inferiore a te, non ho alcuna voce in capitolo. E semplicemente ci stiamo perdendo di vista quello che c'è nel mezzo, ovvero il puro incontro tra due esseri umani. Tu sei un essere umano, io sono un essere umano. Abbiamo le nostre fragilità, i nostri dubbi, le nostre curiosità, le nostre paure, i nostri desideri. Nella mia esperienza personale ho incontrato vari esseri umani che arrivavano prima del camice e della divisa ed è proprio questo e questo te lo posso confermare più e più e più volte. È proprio questo che aveva un potere curativo, terapeutico, quasi magico. Nel documentario che ho creato insieme a Davide, il mio ragazzo, quel qualcosa in più, viene proprio affrontata questa tematica perché per forza di cose parlare di comunicazioni in sanità, parlare di eventuali strategie e modelli comunicativi da poter attuare in sanità implica parlare di relazione e di come percepisci l'altro. Un paziente come percepisce il medico? Un medico come percepisce il paziente? Chiedo di soffermarti su questa riflessione, mi rendo conto che le cose che ho detto sono tante, sono dense probabilmente. Ovviamente alcuni punti li ho dovuti anche un po' sintetizzare come il percorso storico, le cose da dire in realtà sarebbero molte di più, però ti chiedo veramente di soffermarti su questo aspetto. Prenditi tutto il tempo che ti serve e se ti va mi farebbe piacere sapere cosa pensi di questa mia riflessione. Se l'episodio ti è piaciuto condividilo sui social così sempre più persone possono ascoltare anche umani e se non l'hai già fatto ti invito su cominciamodazeus.com dove tutto è iniziato e dove puoi trovare degli approfondimenti. Inoltre puoi farmi visita su instagram dove condivido le mie esperienze di vita e iscrivendoti qui sul canale youtube può essere aggiornato sui nuovi episodi. Io ti ringrazio veramente dal cuore per essere stato o stata qui. Alla prossima!